Lettura guidata, studio numero 9, poltronieri volume secondo, lettura delle duine formate con figure uguali in tempi composti. Tempo 9 quarti, semi minima a 66. Do, si, do, re, mi, re, do, mi, re, do, si, do, sol, la, si, re. Do, la, fa, mi, so, do, mi, re, mi, fa, sol, re, si, do, la, si, do, re, si, so, fa, mi, do, mi, re, do, si, do, la, fa, fa, sol, la, si, do, re, mi, re, mi, re, do, si, do, re, mi, fa, sol, so, fa, mi. RE DO RE MI DO LA SO LA SO FA SO LA SO MI DO RE E DO RE LA FA DO SI LA SO MI DO RE SO 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 LA SI DO MI RE DO SI DO SO MI RE DO SI RE DO LA SI DO RE MI FA LA SO LA SI DO RE MI FA RE E DO SI RE SI FA MI FA FA SO SO LA LA SI SI I DO SI DO MI RE DO SO SO DO RE MI FA SO MI RE DO MI RE DO SI DO SO MI DO SO MI RE DO LA DO SI RE DO SI LA SOL FA MI SOL LA SI LA SOL LA FA RE DO SI SO MI RE DO SI DO FA SO 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 SI LA SO RE FA MI RE MI DO RE MI FA LA MI RE SOL SI DO SO SO SI DO 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 DO